Il cristianesimo come arma elettorale è il tema di Dio in fondo a destra, il libro del vaticanista di Ascanius, Jacopo Scaramuzzi, da poco tradotto in Francia proprio in tempo per la campagna elettorale presidenziale. Non solo Matteo Salvini che bacia un rosario e giura sul Vangelo in campagna elettorale, non solo Giorgia Meloni che si dice donna, madre cristiana, non solo Donald Trump che ostenta una Bibbia o Vladimir Putin che bacia le icone ortodosse, c'è anche e Eric Zemmour, il candidato dell'estrema destra francese che fa anche egli riferimento insistito ed esplicito al cristianesimo. Ho scritto un paio di anni fa Dio in fondo a destra, un libro pubblicato da edizione missionaria italiana che adesso è stato tradotto in Francia da Salvatore e ha una buona ricezione in Francia, tanto più che si inserisce nel dibattito in vista delle presidenziali di aprile. Eric Zemmour, polemista, ex giornalista di Le Figaro, ebreo, fa un riferimento alla cristianità più che al cristianesimo, alle tradizioni cristiane come risposta al declino francese che egli denuncia, il suicidio francese è il titolo di una sua opera. Il suo partito si chiama la Reconquête, la riconquista che riecheggia l'espulsione di musulmani ed ebrei da parte dei cattolicissimi re di Spagna nel 1492, l'Islam è chiaramente il bersaglio polemico. Così la religione, spiega Scaramuzzi, può essere usata come arma strumentale a tutte le latitudini. Un atteggiamento tanto più incongruo con un Papa, Francesco, che invece dialoga con l'Islam, sottolinea l'importanza della fraternità tra persone di diversi paesi, senza distinzione tra i poveri di una nazione e i poveri di un'altra nazione. Un discorso che è agli antipodi del sovranismo e che mostra come il populismo di destra sia la cattiva risposta alla buona domanda.